Il progetto di autonomia del Ministro Calderoli è un progetto di autonomia che noi non possiamo condividere. Premetto, noi siamo assolutamente favorevoli all'autonomia, ma un'autonomia che rispetti il dettato costituzionale, che quindi preveda la definizione ma anche il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni, cioè il livello minimo di servizi e di prestazioni che deve essere garantito su tutto il territorio nazionale che consente di superare il principio della spesa storica che ha penalizzato i territori più svantaggiati e poi un'autonomia che prevede l'istituzione di un fondo di perequazione per i territori, per le aree del paese che sono rimaste più indietro. Il governo non ha previsto nulla di tutto questo, ma soltanto l'istituzione di una cabina di regia dove si discuterà della definizione di eventuali livelli e questo è naturalmente un trucco, o meglio, bisognerebbe chiamarlo per quello che è, un imbocoglio. Grazie per la visione!